La politica sanbenettese apre il 2022 come aveva chiuso il 2021, stilettate del centrodestra verso il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo. Stavolta il tema è un manifesto di auguri alla città da parte dell'attuale primo cittadino, un'iniziativa privata dove però, sostiene il centrodestra, appaiono in maniera inopportuna sia il logo della città di San Benedetto sia l'indirizzo internet del comune. Il tutto senza seguire la procedura corretta secondo il consigliere comunale di opposizione Nicolò Bagalini di Fratelli d'Italia. Sì, siamo di fronte all'ennesimo scivolone da parte del sindaco Spazzafumo e nel suo ruolo l'ignoranza sulle norme statuali non è assolutamente ammissibile. Entrando nel merito della questione infatti quello che contestiamo è come ha ben detto il sindaco e come ha ben detto il sindaco anche pubblicamente di questo manifesto che è un'iniziativa totalmente personale ma andando a vedere bene notiamo appunto il logo, il patrocinio dello stemma del comune di San Benedetto del tronto e non solo, persino anche l'indirizzo web istituzionale. Questo è da considerarsi un uso improprio dello stemma in quanto non vi sono assolutamente atti documentali e non vi è appunto nessuna delibera di giunta che ha autorizzato questo stemma d'affissione. Per quanto riguarda lo stemma del comune su qualsiasi appunto affissione deve essere deliberata in giunta e tanto grave è questo fatto che lo dimostra anche un parere ministeriale del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali che appunto definisce lo stemma comunale come un simbolo, un segno identificativo dell'ente. Un vostro giudizio su questi primi mesi di mandato a Spazzafumo? Beh l'inizio dell'amministrazione Spazzafumo sono evidenti un po' a tutti, c'è stato molto imbarazzo, in primis ad ammetterlo è stato anche lo stesso Spazzafumo che noi abbiamo colto con soddisfazione l'onestà intellettuale del sindaco quando ha ammesso di aver fatto innumerevoli sbagli in questo inizio di mandato, certo ci auguriamo che dalle parole si sconseguano dei fatti.